Da quando ho scoperto il segreto di Daniel, mi sembra di vivere in un altro mondo. Ma anche qui regna il pericolo. E io, inghiottita da forze più grandi di me, da questo amore che forse per me è troppo, ho sempre più paura di prendere la decisione sbagliata. Torment, il nuovo episodio della saga di Fallen. Come cambiare un destino già scritto. Grazie. Grazie.